salve a tutti e bentornati qui nel canale sai che web tv in un'altra puntata di se che ciao da io pino ciao da donato e ciao da valeria allora valeria ci vuoi spiegare in poche parole che cos'è il sai che sai che è un programma di video e servizi informativi con interviste a professionisti occultori hobbisti di utilità e informazione popolare come ad esempio usi e costume arte cultura storia e tradizione del nostro territorio e tante tante curiosità in generale e ora vi aspetta un sai che tra arte e storia in particolare vi proponiamo la seconda parte con il seguito della storia dell'oasi del sacro cuore in santa maria dell'isola a conversano in provincia di bari intanto ringraziamo il direttore della santa maria dell'isola don leonardo mastronardi per l'opportunità che ci ha dato quando iniziarono la costruzione della chiesa da chi fu voluta la costruzione e il monumento sepolclare cosa ci riserve il prosegue della storia lo racconta il professor mario giannuzzi di conversano naturalmente prima di vederci il video che cosa vi ricordiamo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto è il campanellino mi raccomando per vedere fra i primi i nostri nuovi video molto bene detto questo ciao a tutti e vediamoci il video il video in onore della gloriosa vergine maria l'illustrissimo giulio antonio acqua viva duca di atri di terramo di san flaviano e conte di conversano questo cenobio cominciò a costruire nell'anno del signore 1462 6 maggio dove si trova questa epigrafe nella chiesa di santa maria dell'isola ciao a tutti ci troviamo a conversano e proseguiamo il nostro racconto per il sei che la scoperta di un gioiello l'oasi del sacro cuore in santa maria dell'isola con professore mario giannuzzi ciao mario so che hai preparato qualcosa di interessante per noi come stai a quando sono nella chiesa di santa maria dell'isola io sto bene saluto tutti i telespettatori e innanzitutto saluto voi tre che siete intorno a me saluto te valeria saluto donato saluto pino i quali sono impegnati con telecamere strumenti del genere io non sono bravo dal punto di vista tecnico parlo e basta il 6 maggio dell'anno 1462 ebbero dunque inizio i lavori per la costruzione della chiesa di santa maria dell'isola da chi furono soprattutto voluti questi lavori dal conte di conversano giulio ebbene spendere qualche parola per conoscere meglio questo conte egli proveniva dall'abruzzo sposò la figlia del principe di taranto caterina orsini del balzo ebbe fiducia totale da parte del re di napoli tanto da essere comandante dell'esercito del regno di napoli nel 1480 i turchi musulmani provenienti dalla penisola balcanica attraversarono il canale d'otranto cinsero d'assedio la città di otranto la espugnarono massacrarono gli abitanti uccisero 800 abitanti di otranto uno dopo l'altro e si organizzarono per conquistare il regno di napoli sì ma soprattutto per conquistare la penisola italiana e cancellare la presenza del cristianesimo cattolico e del papa che stava a roma chi li ha fermati i turchi musulmani sono stati fermati dall'esercito del regno di napoli guidato dal conte di conversano giulio Antonio Acquaviva d'Aragona il conte sconfisse i turchi li inseguì ma nell'inseguimento cadde in una imboscata fu ucciso decapitato il cavallo come già abbiamo raccontato nella prima puntata portò a conversano il corpo senza testa del conte il corpo senza testa fu sepolto nella parte più nascosta della grotta dell'isola in un tempo successivo fu recuperato anche il capo la testa del conte che fu sepolta a un livello superiore rispetto al corpo bene Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona dunque è morto combattendo per la fede cristiana contro i turchi musulmani un eroe il figlio successore del conte stesso di nome Andrea Matteo per celebrare l'eroismo del padre nella chiesa dell'isola volle erigere un grandioso monumento sepolcrale che noi troviamo in fondo alla navata di destra dietro l'altare diamo uno sguardo panoramico a tutto questo grande monumento che parte dal pavimento e giunge fino alla parte più alta di questa possiamo dire cappella che cosa rappresenta questo monumento il monumento è un documento dico io non solo storico ma anche umano e teologico se cominciamo a osservarlo dalla parte più inferiore noi notiamo che ci sono quattro grandi statue quattro grandi statue che rappresentano le quattro virtù cardinali scusate questa piccola digressione chiamiamo virtù cardinali quelle virtù che appartengono agli uomini indipendentemente dalla loro religione dalla loro razza dalla loro preparazione culturale le quattro virtù cardinali sono la fortezza la giustizia la prudenza la temperanza di queste quattro virtù avevano parlato anche prima che venisse Gesù Cristo i filosofi greci platone soprattutto fortezza ecco fortezza in spagnolo fortitudo giustizia iustizia prudenza temperanza sono virtù che gli uomini possono praticare credenti e non credenti cristiani e non cristiani appartengono alla dimensione umana terrena che ci accomuna tutti quanti le quattro statue ecco qua vi presento la fortitudo la fortezza simboleggiata dal leone simboleggiata dalla colonna come ciò che regge un peso la fortezza chiaramente è riferita alla fortezza dell'anima alla fortezza del pensiero non certamente alla forza fisica l'altra statua ci rappresenta la giustizia non è completa perché sicuramente in questa mano reggeva una bilancia e nell'altra mano teneva una spada bilancia e spada sono i simboli della giustizia l'altra statua che noi guardiamo non è anche questa non è completa però capiamo facilmente che intorno a braccio destro si avvolge un serpente il serpente è il simbolo della prudenza già che nel Vangelo stesso Gesù Cristo invita gli apostoli e gli uomini stessi a essere prudenti come il serpente la quarta statua è la statua della temperanza lo capiamo da questo fiasco la temperanza e la moderazione la misura il non esagerare quindi temperanza prudenza giustizia fortezza sono virtù che aiutano gli uomini a vivere la loro dimensione umana ma dalla dimensione umana terrena legata alla terra noi ci spostiamo in questa zona laddove vediamo due figure nel sonno della morte chi sono questi due ecco qua il conte giulio antonio acquaviva d'aragona la moglie caterina orsini del balzo rappresentati appunto da defunti che indossano il saio francescano come mai indossano il saio francescano perché la chiesa dal conte giulio antonio acquaviva d'aragona fu affidata ai frati minori osservanti c'è un ramo del francescanesimo e il conte stesso rimase fortemente legato alla comunità dei monaci francescani che stavano all'isola tanto che questo già lo sapete è stato sepolto nella grotta dell'isola sono nel sonno della morte perché dopo la vita terrena che noi abbiamo visto rappresentata dalle quattro virtù ecco la dimensione della morte cioè il limite da attraversare per poter salire a una dimensione superiore è qui che il nostro sguardo si rivolge in una dimensione superiore cioè al di là del limite della morte noi troviamo una statua di una madre con tanti figlioletti attorno al centro certamente riconosciamo la Vergine Maria con in braccio il bambinello Gesù e sulla destra un'altra statua un'altra figura femminile che regge nella mano destra un calice con un'ostia queste tre figure rappresentano le tre virtù teologali la partiamo da sinistra caritas sta anche scritto ma seppur non fosse scritto lo capiamo perché la dimensione materna è la dimensione più alta dell'amore della carità se ci spostiamo a destra troviamo la fides e la fede e la fede rappresentata dalla donna che regge il calice e l'ostia perché se non c'è la fede non si comprende il mistero della transustanziazione cioè il vino e il pane che diventano sangue e corpo di Gesù Cristo al centro al centro la Vergine Maria che non ha bisogno di una scritta per farci capire che sta a rappresentare la speranza così come si recita nell'inno salve Regina noi chiamiamo Maria speranza nostra e allora al di là della morte ci sono le virtù teologali la carità la speranza e la fede che ci portano nella dimensione celeste questa rappresentazione è poi tutta inserita in un grande movimento di figure di statue di pitture di colonne di capitelli che secondo la moda del tempo si dice che questo monumento sia stato completato nell'anno 1525 una moda del tempo che era tardo rinascimentale e preannunziava il barocco qui in Puglia tutta l'opera da Andrea Matteo figlio di Giulio Antonio a Coviva d'Aragona fu affidata al più famoso artista che operava che operava in Puglia nei primi decenni del cinquecento si chiamava Nuzzo Barba proveniente da San Pietro frazione di Galatina come facciamo a saperlo? perché questo grande monumento funebre questa opera d'arte è possiamo dire firmata noi lo troviamo scritto ve lo indico Nuzius Barba De Santo Petro Galatinensi poi c'è scritto Me Struxit è come se il monumento parla e dice mi ha costruito Nuzzo Barba di San Pietro in Galatina l'artista fu come si dice termine un po' semplice ingaggiato dal conte Andrea Matteo e venne a lavorare a Conversano fra un po' vedremo altre opere in Santa Maria dell'Isola opere dell'artista Nuzzo Barba Mario ma perché sta scritto in spagnolo? che c'entra spagnolo con Puglia? Valeria tu mi hai fatto una domanda molto impegnativa ci vorrebbe una bella lezione di storia ma brevemente ti dico questo il Regno di Napoli era strettamente collegato con il Regno di Spagna tante che noi correttamente nell'Italia meridionale dovremmo chiamarla Vice Regno di Napoli e il Re di Napoli Vice Re però fra il Regno di Napoli cioè tutta l'Italia meridionale e il Regno di Spagna c'era una strettissima connessione e quindi anche i conti di Conversano che si trovavano all'interno del Regno di Napoli erano collegati con la Spagna perciò non ci sorprende che noi troviamo nei documenti o in alcune iscrizioni parole che risentono chiaramente della lingua spagnola prudenzia temperanzia eccetera eccetera grazie Mario e adesso proseguiamo con la storia abbiamo insieme ammirato il grandioso monumento funebre in onore di Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona morto qualcuno dice martire nella battaglia di Otrano contro i Turchi ricordiamo che il monumento fu voluto da suo figlio Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona che noi possiamo guardare inginocchiato in fondo alla navata di destra come committente di questa opera d'arte realizzata dallo scultore Nuzzo Barba di San Pietro in Galatina ma non è l'unica opera che noi troviamo nella chiesa di Santa Maria dell'Isola perché possiamo anche ammirare questo magnifico pergamo o pulpito in pietra finemente ricamato nella parte basamentale diciamo lo possiamo vedere ecco un'altra opera di Nuzzo Barba e noi ne abbiamo conferma da ciò che troviamo scritto qui Opus Nuzzi Barbe è l'artista che vuole documentare se stesso come autore dell'opera spicca questo stemma questo è lo stemma dei conti di Conversano a partire da Giulio Antonio in verità Giulio Antonio come suo cognome d'origine è semplicemente Giulio Antonio acqua viva fu il re di Napoli che gli concesse l'onore di aggiungere al suo cognome acqua viva anche il cognome dei regnanti di Napoli d'Aragona perciò Giulio Antonio divenne Giulio Antonio acqua viva d'Aragona e tutti i suoi successori hanno conservato questo privilegio il privilegio concesso dal re lo notiamo nello stemma perché questo stemma è diviso in quattro parti in alto a destra e in basso a sinistra è riportato il simbolo degli acqua viva in alto a sinistra e in basso a destra è riportato il simbolo degli Aragona quindi questo stemma ripete il privilegio concesso al cognome dei conti di conversano acqua viva d'Aragona e nello stemma troviamo acqua viva il leone rampante e d'Aragona questa serie che non vi sto a enumerare di bandiere e di simboli che appartenevano ai re di Napoli un'altra opera dello scultore dell'artista Nuzzo Barba di San Pietro in Galatina è l'altare dedicato alla Madonna dell'isola in verità l'altare è monumentale parte dal pavimento e arriva in alto dove c'è come si dice l'Eterno Padre che regge la sfera del mondo Nuzzo Barba certamente ha lavorato per realizzare l'edicola in pietra nella quale è racchiusa l'icona della Madonna dell'isola c'è scritto in alto con caratteri che si rifanno al greco madre meterte la madre di Dio guardiamola questa icona in verità non è l'icona originale questa è una copia l'icona originale si trova nella casa di un nobile napoletano io mi auguro io mi auguro che la nobiltà sia una nobiltà del cuore e questo nobile napoletano che pare legittimamente è venuto in possesso dell'icona originaria della Madonna dell'isola chissà se abbia desiderio intenzione di restituirla questa è una copia dunque e voi vi starete chiedendo come mai non c'è l'originale come mai è stata venduta ma questo fa parte della storia della chiesa di Santa Maria dell'isola ma di questo noi parleremo nella prossima puntata per ora lasciamoci incuriosire dalla iscrizione che troviamo qui che c'è scritto c'è scritto c'è scritto Virginis Oc Struxit Dux Comes Conversano Onori lo diciamo in italiano il conte di Conversano Giulio ha costruito questo altare in onore della Vergine quindi la Vergine dell'isola la troviamo in questo altare alla prossima puntata ciao 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 Grazie per la visione!